Entranno in pista le coppie numero 376 Lorenzo Fodiola La coppia numero 370 Polo e Pola La coppia numero 395 Maurizio e Daniela La 368 Alessandro e Sara La coppia numero 118 Elion e Laura La coppia numero 372 Mattia e Veronica Applauso per loro Ragazzi stanno per partire lo spettacolo senza porto ricamata del meglio di voi Tutto quello che sapete fare fatecelo maniere Assaggio Questa è la musica con cui vaderete Ragazzi è abbastanza veloce Ragazzi è abbastanza veloce Ragazzi fateci vedere come si parla senza porto riccara Ragazzi è abbastanza veloce 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 Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!